La strada invece di un canestro per Brescia mi sembra piuttosto corretta. Sta lavorando bene, sta portando a casa risultati che magari non sono visibili dal grande pubblico e direttamente non ci sono proclami, però piano piano, lentamente, sono sempre di più le aziende, i partner, le piccole aziende che si stanno aggiungendo al progetto di un canestro per Brescia. È una grande soddisfazione, come una grande soddisfazione vedere il palazzetto pieno, è una grande soddisfazione aver visto il canestro per Brescia crescere. Non nascondiamoci che due anni fa, quando è nato, gli attori di quel canestro per Brescia erano due aziende. E sembrava che fosse una cosa così fatta per scherzo, ci sediamo a bere un bicchiere di vino e discutiamo di cosa possiamo. Siamo arrivati a 33 aziende, che è sopra il nostro obiettivo. Noi avevamo stimato nella più rosa prospettiva le 30 aziende per i primi due anni e io ho sempre detto che il mio sogno maggiore era arrivare a creare uno zoccolo duro di 50 aziende in un arco temporale, 4-5 anni. Quando arriveremo a quello che è il vero scoglio, cioè le 50 aziende potremo dare delle pianificazioni diverse anche alla società e a tutta la struttura. Però in questo momento avere 33 aziende che fanno parte del consorzio, che ogni tanto si incontrano, che cercano di intraprendere azioni interessanti tra di loro, che aiutano il basket, sicuramente è stato un grande passo. Per cui siamo assolutamente contenti e soddisfatti, non è solo il mio merito di tutti. Quindi un valplauso a tutta l'associazione Canestro del Brescia, chiaramente lo facciamo anche a Michele Pelizzari che ne è il presidente, quindi qualcosa avrà fatto anche lui, non è stato solo lì seduto su una seggiola.